Dopo l'anteprima del Cagnotting Festival e l'immancabile presenza al Salone Nautico di Genova, abbiamo provato il nuovo Benetton First 44. Ecco alcune impressioni. Firmato dal duo italiano Biscontini Argento, il nuovo First 44 è una barca ideale per la crociera sportiva, un cruiser racer da manuale e forse con qualcosa in più. Benetton lo propone infatti in due versioni distinte, una più confortevole impostata per la crociera, il First 44, ed una seconda più performante adatta alla regata, il First 44 Performance.